Saragama, non possiamo più nasconderci, venerdì Italia-Portogallo può valere la qualificazione, però non è un match facile. No, assolutamente, noi abbiamo già incontrato il Portogallo e siamo riusciti a vincere in casa loro, è stata una partita molto combattuta, l'abbiamo strappata di carattere, e quindi adesso abbiamo un signor avversario che è cresciuto, siamo cresciuti anche noi, però questo per noi è un match point. Da capitano, qual è il polso del gruppo, come stanno le ragazze anche psicologicamente in vista di questo match? Stiamo bene, stiamo bene perché sappiamo quello che vale questo match, quindi siamo concentrate sull'obiettivo e stiamo raccogliendo le forze per questo ultimo sforzo che può valere tantissimo. È stata una stagione lunga, tu con la Juventus hai vissuto anche lo sparigio scudetto, vi ha lasciato qualche segno dal punto di vista fisico questa stagione, come arrivate proprio come condizione fisica al match? Sicuramente è stata una stagione intensa per tutte le squadre di vertice, e quindi chiaramente a fine stagione uno fa un po' più di fatica, però l'obiettivo è talmente alto, la posta in paglio grossa che si va oltre questo. Il valore aggiunto è sicuramente quello di poter giocare in casa, in una città che vive il calcio femminile molto da vicino, e quindi il tifo sarà un punto a vostro favore. Esattamente, continuiamo con lo slogan la dodicesima donna in campo, quindi Firenze penso che sarà una città che sosterrà la nazionale femminile, si sono avvicinati ormai al calcio femminile con la Fiorentina, e quindi hanno un motivo in più per essere, ci sono qua tante ragazze della loro squadra, hanno un motivo in più per seguirci e soprattutto perché possiamo realizzare un sogno e il resto degli italiani con noi.